Carissimi amici, desidero presentarvi dei canti di padre Bruno Facciotti, un sacerdote stimatino che molti conoscono non solo per le sue canzoni, è un cantautore, sentiremo lui che suona la chitarra, ma anche per le sue pitture che ha portato quasi in tutto il mondo dove ci sono le missioni degli stimatini. Ebbene, eravamo negli anni Ottanta e questi canti li abbiamo come recuperati dai nastri, dalle audiocassette e sono come quasi dei reperti archeologici. Ebbene, il primo di questo canto si intitola La Famiglia. Ecco, non è facile trasmettere e esprimere che cos'è la famiglia attraverso un canto, ma credo che padre Bruno sia davvero riuscito. La canzone dice, ho chiesto al sole che cos'è la famiglia, il sole mi ha risposto è una luce immensa, ho chiesto al vento, ho chiesto al mare, ho chiesto alla montagna che cos'è la famiglia, la montagna mi ha risposto è una valanga di felicità, di gioia, ho chiesto alla mia mamma che cos'è la famiglia e la mamma mi ha risposto è una cosa stupenda. Ascoltiamo questo canto davvero molto bello, dedicato a tutti i nostri giovani, i nostri ragazzi, alla famiglia. La Famiglia Ho chiesto al sole che cos'è, che cos'è la famiglia, la famiglia. Ho chiesto al sole che cos'è, o sole la famiglia, che cos'è. Il sole mi ha risposto è una luce immensa, è una luce immensa, è una luce immensa, è una luce immensa. Ho chiesto al vento che cos'è, che cos'è la famiglia, la famiglia. Ho chiesto al vento che cos'è, o vento la famiglia, che cos'è. Il vento mi ha risposto è un soffio di bontà, un soffio di bontà, un soffio di bontà. Ho chiesto al mare che cos'è, che cos'è la famiglia, la famiglia. Ho chiesto al mare che cos'è, o mare la famiglia, che cos'è. Il mare mi ha risposto è un'onda di felicità, un'onda di felicità, un'onda di felicità. Ho chiesto alla montagna che cos'è, che cos'è la famiglia, la famiglia. Ho chiesto alla montagna che cos'è, montagna la famiglia, che cos'è. Montagna mi ha risposto è una valanga di speranza, una valanga di speranza, una valanga di speranza. Ho chiesto ad un amico che cos'è, che cos'è la famiglia, la famiglia. Ho chiesto ad un amico che cos'è, amico la famiglia, che cos'è. L'amico mi ha risposto è, saper dimenticare, saper dimenticare, saper dimenticare. Ho chiesto alla mia mamma che cos'è, che cos'è la famiglia, la famiglia. Ho chiesto alla mia mamma che cos'è, ho chiesto alla mia mamma che cos'è. Ho chiesto alla mia mamma che cos'è, che cos'è la mamma che cos'è. La mamma mi ha risposto è, un mondo di amore e di comunione, in un oceano di differenza, è un mondo di amore e di comunione, in un oceano di differenza, è un mondo di amore.